Ciao a tutti cari amici e bentrovati con un nuovo interattivo con i tarocchi dedicati all'amore. Allora, questa sera andiamo a fare questa canalizzazione del pensiero. Ho già preparato queste due varianti, quindi variante 1 col simbolino blu-azzurro e la variante 2 con il simbolino rosa. Andiamo poi a vedere che cosa vi vuole dire la persona e anche i segni zodiacali che appartengono alla stesa. Naturalmente, sentite se vi riconoscete, altrimenti provate magari a cambiare variante. Allora, io partirei subito con la variante 1, quindi metto in disparte e metto il simbolino qui sopra, così lo vedete. Andiamo ad estrarre le carte, le apriamo e andiamo subito a capire e a vedere questa persona nei vostri confronti. Questi oracoli sono bellissimi, ma sono veramente giganti e difficili da mescolare. Infatti, ho optato per preparare già i mazzetti pronti. Allora, io vi ricordo sempre che sono interattivi, quindi non vado ad approfondire. Come potete vedere, apro delle carte e semplicemente vado a leggerle. Quindi, può riguardare la vostra situazione come anche no. Allora, andiamo a vedere subito questa persona. Innanzitutto, qui abbiamo una situazione di blocco, probabilmente, all'interno del vostro rapporto. Questa persona pensa molto a una situazione di fermo, di incapacità di muoversi. Allora, o è un blocco relativo al vostro rapporto, quindi è un fermo che c'è stato per cause che naturalmente sapete voi, lavorative, finanziarie, una persona impegnata, lo siete voi, ok? Cercate di capire in base alla vostra situazione. Il fatto sta che qui c'è un blocco e questa persona si sente imprigionata, si sente incapace di cambiare le cose, di progredire all'interno di questo rapporto. Io vedo qui che c'è una separazione, un allontanamento e questa persona lo sente molto e c'è stato un allontanamento, secondo questa persona, è stata necessaria questa separazione per riportare una sorta di equilibrio, una sorta di ordine. Infatti, guardate, mi viene fuori una carta che mi parla di ordine e una carta che mi parla di equilibrio dal punto di vista emotivo. Quindi questa persona probabilmente crede che questa separazione sia oggettivamente una cosa che attualmente è positiva per questa persona, per lui, ma anche per voi probabilmente, perché c'è la necessità di rimettere in ordine le cose. Soprattutto anche a livello emotivo, perché questa persona si è sentita molto scossa dalla situazione che c'è tra di voi, se è successo qualcosa, se avete litigato, se ci sono state delle incomprensioni. Quindi ha bisogno di recuperare il proprio equilibrio personale e è una persona che al momento non sa che destino avrà questa situazione tra di voi. Qua mi esce la carta del caso, che mi parla di una situazione comunque che questa persona pensa che la situazione, l'arrivo di questo blocco non sia arrivato per nulla. Però è anche una persona che contestualmente non sa dove andrà a finire questa situazione, cioè sta lì con le sue cose, con la sua vita e aspetta, guarda all'orizzonte per capire dove vuole andare, dove si andrà insieme rispetto a questa situazione. Se resterà il blocco o se ci sarà un cambiamento. Quindi fatemi un po' sapere in base alla vostra situazione che io vi leggo sempre nei commenti. Andiamo a vedere che cosa vi dice questa persona. Voglio fare l'amore con te. Quindi qui probabilmente sei solo amicizia per me. Per alcuni di voi questo blocco qui potrebbe riguardare l'essere impegnati. Quindi qua abbiamo una persona che probabilmente ha la necessità di recuperare un equilibrio come abbiamo visto perché qualcosa è successo. Il blocco qui evidentemente da come parla, piango spesso per te, non lo sta vivendo bene. Quindi o è un blocco causato da voi perché avete una relazione probabilmente o ce l'ha questa persona e quindi diciamo questa separazione è dovuta per forza. Quindi queste catene sono effettivamente una prigionia nel vero senso della parola. Questa persona vuole, vorrebbe ma non può. Andiamo a vedere i senzio di Akali. Per voi che avete scelto la variante 1. Allora, abbiamo il leone come primo segno, quindi segno di fuoco. I segni d'acqua, quindi pesci, cancro e scorpione. Abbiamo la bilancia. I segni d'aria, quindi la bilancia è riconfermata. Poi abbiamo l'acquario e i gemelli. E andiamo a prendere lo scorpione. Quindi variante 1. Questi sono i segni leone, acquario, scusate leone, bilancia e scorpione. E poi abbiamo la bilancia che è riconfermata perché mi escono di nuovo i segni di aria. Quindi abbiamo anche acquario e gemelli. E poi segni di acqua, quindi scorpione riconfermato, ma anche i pesci e il cancro. Io vi mando un grossissimo abbraccio. Vi ricordo che se mi volete contattare lo potete fare via mail a tarot, taitarot-gmail.com Ma lo potete fare anche via whatsapp al 371-636-0228. Il numero lo trovate in descrizione sui video del canale. Io vi mando un grossissimo abbraccio, vi auguro una buona serata e passo adesso alla variante numero 2. Allora, variante 2. Per coloro che hanno scelto il simbolino rosa. Andiamo un po' a vedere questa persona che cosa ci dice questa sera. Allora, sicuramente è una persona che vi ritiene delle donne molto belle, molto affascinanti, molto attraenti. Quindi è una persona che comunque nel momento in cui va a pensarvi lo fa con... Sicuramente anche un po' con... Cioè, vi vede candide, vede pure. Però naturalmente vedo qui che emerge un'attrazione sessuale. Questa persona comunque vi pensa anche a livello erotico e sessuale. Nonostante ciò, comunque è contornata, diciamo, da un romanticismo, da dolcezza, da una figura delicata. Quindi non mi vede in senso, diciamo, brutto del termine, ma mi vede una persona bella, attraente, affascinante. Sicuramente una donna che lo sta a prendere a livello sia affettivo che sessuale. Ritiene che il rapporto con voi lo faccia star bene, lo faccia sentire a proprio agio. È una persona che la vedo anche tentata dalla vostra presenza. Ma è un uomo che probabilmente qui ha dei valori molto importanti. E per alcuni di voi mi dà l'idea, con questo bastone che quest'uomo sta tenendo appresso, che in qualche modo è già legato a una situazione. O si sta tenendo, si sta un po' costringendo a non fare dei passi. Vedete come ha questo piede impiantato verso questo albero, nonostante ci sia questo serpente che lo provoca. Quindi la vostra presenza è provocatoria per questa persona, perché vorrebbe venire in qua. Vedete comunque un piede da una parte e un piede dall'altra. Quindi è una persona che è tentata, perché sta bene con voi, si sente a proprio agio. Quindi qui per molti di voi c'è un legame alla quale questa persona è già attaccato. Quindi che sia una famiglia di origine, una famiglia, una relazione ufficiale, che sia anche semplicemente la propria libertà. Ok? Quindi io parlo di relazioni ufficiali, perché moltissimi di voi hanno comunque rapporti extra, e quindi il primo pensiero tende ad andare lì. Però potrebbe riguardare anche semplicemente una persona attaccata alla propria libertà. e è tentato di venire da voi perché gli piacete, però non atteme appunto questo allontanamento da quella che è la sua vita. Abbiamo poi in centro la forza, quindi è una persona che pensa che siate comunque orgogliose. e voi guardate, un po' state come aspettando il cadavere che arrivi dal fiume, e da lì non vi smuovete, siete orgogliose, sapete di essere belle, sapete di essere affascinanti, e qua vedo che mi esce la carta della limitazione. Quindi voi avete anche estremamente intelligenti qui, almeno questa persona vi vede in questo modo qui, e vi vedo corrazzate, quindi probabilmente qua questa persona ha posto dei limiti, appunto perché è legato a questo bastone, che riguarda il proprio passato. Quindi è una persona che comunque si sta proteggendo, e se fa delle mosse le fa in maniera estremamente lenta. E qua vedo che voi probabilmente con la vostra intelligenza, la vostra saggezza, vi state coprendo, cioè vi siete addossate in un'armatura, perché proprio guardate all'altezza del cuore, perché probabilmente questa persona con questo suo comportamento vi sta afferendo, e lui lo sa molto bene, cioè perché ha visto un cambio di atteggiamento nei vostri confronti. Quindi andiamo a vedere che cosa vi dice questa persona. Naturalmente fatemi sapere, voglio sentirmi di nuovo così. Sei importante per me. Scusate. Allora, ti sto nascondendo i miei veri sentimenti. Non sono felice. Questa persona, secondo me, ha una relazione. Lo so che sei innamorata di me. Voglio fare l'amore con te. Qui secondo me questa persona è innamorata di voi, però è legata e non sta bene nella situazione in cui è attualmente, quindi ci sono queste limitazioni. Probabilmente non è detto che siano state messe dalla persona, ma potreste averle messe anche voi, perché volete quel che volete. Qua c'è la forza in centro stesa, quindi mi dice proprio che voi volete un certo tipo di rapporto. Se ve lo dà bene, se no, arrivederci. Voglio sentirmi di nuovo così, quindi comunque c'è un distacco qui, no? Sei importante per me, ti sto nascondendo i miei veri sentimenti. Questa è qua, c'è anche la carta dell'orgoglio, quindi probabilmente questa persona sta facendo finta di nulla. Allora, qui abbiamo i segni di acqua, quindi pesci, cancro e scorpione. I segni di fuoco, leone, sagittario e ariete. Qui abbiamo il leone, confermato. Oggi esce sempre il leone, il cancro. Vediamo che altro segno esce qui. Non esce, andiamo a prendere i pesci. Ok, quindi i segni d'acqua, abbiamo il cancro e i pesci straconfermati, poi abbiamo anche un po' di scorpione. I segni di fuoco con il leone, riconfermato, ma abbiamo anche il sagittario e poi la riete. Io Variante 2 vi mando un grossissimo abbraccio, vi invito a mettere un like, ad iscrivervi al canale ed attivare la campanellina, così vi arrivano tutte le notifiche dei video che carico. Se mi volete contattare per un consulto, potete farlo via mail o anche via WhatsApp tramite messaggio e trovate tutto in descrizione del video. Una buona serata e bei sogni a tutti!